Siamo qua per vedere un po' come a fronte di questa situazione dei successivi decreti governativi varati dall'inizio di marzo che hanno posto la chiusura dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, come si è attivata la comunità per le scuole ebraiche. È notizia peraltro recente che l'iniziale chiusura prevista per il 3 aprile potrebbe essere prorogata ancora di un mese o comunque di altre settimane. Si parla molto di lezioni digitali, di videoconferenze, video lezioni, chat di gruppo, trasmissione di materiali didattici, piattaforme online, registro elettronico. Ecco, sulla base di queste indicazioni, come la scuola ebraica ha potuto implementare le direttive governative? Come sta affrontando il tema coronavirus? La comunità ebraica di Roma ha risposto all'emergenza in maniera assolutamente tempestiva. Il giorno prima della pubblicazione del decreto, già comunque le nostre scuole si stavano attivando e anche ovviamente nei giorni precedenti, si stavano già organizzando per poter gestire questa emergenza, anche perché ovviamente l'educazione dei bambini e dei nostri ragazzi è prioritaria rispetto a tutta un'altra serie di dinamiche, per cui necessariamente ci dovevamo organizzare per tempo. Devo dire che i nostri direttori hanno risposto in maniera incredibile, perché già dal giorno dopo, dalla pubblicazione del decreto, si sono attivate le lezioni. È ovvio che poi nel tempo si sono perfezionati certi processi piuttosto che altri, si è partiti sicuramente prima con i ragazzi un po' più adulti, anche perché necessariamente è anche più semplice gestire delle piattaforme online con i ragazzi al liceo, ma l'aspetto essenziale è che siamo stati assolutamente efficienti e la squadra dei nostri professori, docenti e soprattutto i nostri direttori sono stati eccezionali. Non era facile, anche perché comunque essere in grado di gestire questa emergenza con il corpo docente e con le relazioni che si devono necessariamente creare in maniera assolutamente innovativa con i ragazzi è stata un'attività complessa e tuttora questo richiede un grande sacrificio da parte dei direttori e indubbiamente anche da parte dei docenti che ci tengo a ringraziare moltissimo per il loro preziosissimo contributo. La domanda per Milena era quali sono le difficoltà del processo di coinvolgimento e di responsabilizzazione negli alunni delle elementari? Si sono organizzate le cose in base all'età degli alunni. Quelli più piccoli hanno ricevuto video lezioni registrate dagli insegnanti e man mano anche lezioni via Skype perché Skype è di facile gestione per i bambini più piccoli rispetto allo Zoom che è più indicato per i grandi e poi comunque è stata attivata anche Google Classroom. Per tutte queste cose si è provveduto a mandare dei tutorial fatti dai docenti più esperti via mail abbiamo mandato dei tutorial a tutti i docenti per l'utilizzo di Google Classroom e per l'utilizzo di Zoom ma comunque i materiali vengono condivisi anche sulla bacheca di Argo che è il nostro registro elettronico e devo dire che le criticità non ci sono perché laddove si fanno le lezioni in video e in diretta troviamo un grosso coinvolgimento anche dei bambini più piccoli anche con una grossa felicità nel vedere le loro Morot e i Morim e ognuno di loro si sta attivando. All'inizio è stato più difficile e adesso si sta aggiustando sicuramente il tiro. La cosa più conveniente per i ragazzi più grandi è Google Classroom perché poiché non tutti hanno potuto portare i quaderni, i libri su Google Classroom c'è la possibilità per gli insegnanti di mandare compiti, per i ragazzi di farli online e l'insegnante poi li può rispedire corretti ad uno ad uno in privato quindi è molto utile questa piattaforma. In più ci sono anche altre iniziative diciamo personali vedi quella del Moregiosi che sta facendo una sorta di agadà tipo karaoke con un link che a breve verrà mandato a tutti i genitori. Raffa Rucci volevo chiedere se la preparazione per la maturità presuppone uno studio più accurato quindi anche approfondire le simulazioni e altre tappe di avvicinamento comunque sia a questo periodo che è importante per i ragazzi. Dunque gli strumenti che si utilizzano sono gli stessi che ha indicato poco fa Milena. La criticità maggiore indubbiamente per i ragazzi dell'ultimo anno del liceo anche perché non abbiamo nessuna idea al momento di come si svolgeranno questi esami se ci saranno delle variazioni ordinamentali, se la struttura dell'esame sarà esattamente quella prevista o se cambierà. Questo anche dipenderà da quanto eventualmente si prolungherà la chiusura delle scuole. Comunque l'attivazione è già stata immediatamente praticata. Ieri i ragazzi del quinto liceo hanno fatto una simulazione della prima prova di esame di Stato ovviamente utilizzando la piattaforma Classroom che è la migliore per questo tipo di impegno. Gli insegnanti continuano a inviare materiale o a fare lezioni online e a farli esercitare. Credo che questo è il punto più complesso perché per le altre classi c'è da riflettere su quanto sia necessario portare a compimento esattamente il programma ordinamentale. Lo stesso ministro ha lasciato direi ampia autonomia da questo punto di vista e forse il momento non è quello di essere assolutamente rigorosi per quanto riguarda esattamente il programma quanto piuttosto vedere quali sono le competenze trasversali che forse è meglio che i studenti sviluppano in questo momento così particolare e critico. Per i ragazzi del quinto che sono di fronte all'esame cerchiamo di mantenere il ritmo di programmazione che si era immaginato all'inizio dell'anno facendogli fare appunto queste esercitazioni e in attesa di avere delle indicazioni più precise che prima o poi sicuramente verranno per quanto riguarda il reale svolgimento di questo esame. A me non sembra che ci siano criticità o mancanza di strumenti da parte degli alunni anche perché in ogni caso va bene anche un telefonino visto che ormai i telefonini sono tutti equiparabili a un piccolo pc. Come dicevo prima per i più piccoli c'è bisogno ovviamente dell'aiuto dei genitori però sembra che stiano rispondendo molto bene, molto bene sono coinvolti e una nota che nominavo prima proprio di ieri indica anche la possibilità di fare valutazioni in questo periodo anche a distanza e quindi ci sono dei docenti in particolare della scuola media che stanno facendo anche interrogazioni quindi ci sarebbe la possibilità di richiedere incomodato d'uso delle risorse multimediali per quelle famiglie che non le dispongano al ministero bisognerebbe un po' approfondire questa modalità però per il momento nessuno ci ha obiettato questa cosa da forse qualche pochi genitori ma più che altro dei bambini molto piccoli. Vorrei dire che la risposta dei studenti mi ha molto colpito perché è molto molto positiva io insegno in varie classi e faccio regolarmente lezioni online e di fatto si connettono tutti gli studenti e anche partecipano perché è chiaro che la connessione può essere muta e anche può essere cieca e quindi potremmo anche non vedere, non sentire nessuno e non sentirlo mai comparire ma se si immagina una lezione online in qualche modo partecipata che ovviamente è una partecipazione ben diversa da quella in presenza questo va ovviamente sottolineato però devo dire che il riscontro, il feedback degli studenti è immediato quindi partecipano, domandano, gli strumenti danno molte possibilità di farli partecipare quindi da questo punto di vista direi che addirittura forse gli studenti se c'è stata una lamentella è dell'eccesso di input che noi abbiamo suggerito piuttosto che non di difetto di input questo evidentemente è qualcosa su cui si deve lavorare perché io cercherò di omogeneizzare il più possibile di equilibrare questi interventi perché in alcuni casi c'è stata una sorta di sovrabbondanza per cui gli studenti si sono sentiti sovraccaricati perché una tale massa di strumenti e di possibilità ovviamente poi richiede una sorta di indirizzo. Dal punto di vista degli strumenti direi che io non ho avuto nessun riscontro di probabilisticità. Diciamo che noi già durante la didattica ordinari e chiediamo ai ragazzi di essere dotati di un tablet o di un computer portatile e quindi in generale i nostri studenti sono già dotati di questi strumenti. Gli insegnanti oltre ad essere molto impegnati anche da un punto di vista proprio di tempo che dedicano alle lezioni che è più che altro estremamente superiore a quanto si faccia in presenza e molti di loro in particolare i docenti di ebraico e di ebraismo in questi giorni hanno partecipato a delle videoconferenze per implementare diciamo le lezioni di ebraico e di ebraismo con questi strumenti diciamo digitali e anche a delle videoconferenze per imparare ad utilizzare al meglio Zoom. Io farei una sola riflessione generalissima. Mi ha colpito che in più classi ad un certo momento il messaggio che viene è ci manca la scuola che è una cosa curiosa, uno penserebbe che tutto sommato questo che potrebbe essere scambiato per un lungo periodo di vacanza dovrebbe essere molto molto gradito invece molti, io tra l'altro ho anche dei figli che vanno a scuola, ebbene molti sottolineano il fatto che gli manca la scuola e che quindi questa è una forma emergenziale ovviamente eccezionale è fortuna che abbiamo questi strumenti e che ci possono anzitutto mantenere in contatto con gli studenti anche nel dialogo quotidiano scambiando idee, opinioni, riflessioni e ci permettono di insegnare ma comunque la realtà del rapporto educativo che è in presenza è un'altra cosa e questo non solamente manca agli insegnanti ma manca ovviamente anche agli studenti.